Ciao ragazzi, con questo video voglio farvi vedere ancora un esempio di applicazione delle equazioni differenziali alla fisica. Abbiamo un corpo di massa 1 kg che si muove lungo una retta orizzontale, sottoposto a delle oscillazioni perché su questo corpo agisce la forza elastica F uguale a meno K per X, dove K è una costante che vale 4 N su un metro ed X è la posizione del punto materiale. Ecco, all'istante iniziale T uguale a 0, il corpo si trova nella posizione di equilibrio X uguale a 0 ed ha una velocità di 2 metri al secondo. Ecco, queste sono le condizioni iniziali, quindi la posizione iniziale e la velocità iniziale V con 0 è appunto la V all'istante 0. Dettaglio importante è che l'attrito è nullo e dobbiamo trovare la legge oraria del moto, cioè la funzione della posizione al variare del tempo, quindi dobbiamo essenzialmente trovare X di T. Ecco, in questo schema abbiamo la molla e il corpo di massa 1 kg agganciato alla molla. All'istante iniziale il corpo si trova nella posizione X uguale a 0 e questa lunghezza è la lunghezza a riposo della molla. Poi, quando il corpo si trova nella posizione X, vedete, questo diciamo è l'allungamento, quindi c'è una forza di richiamo da parte della molla, perché appunto X è positivo, vedete, il corpo si trova a destra dello 0, quindi X è positivo, K è positivo, quindi meno K è negativo, per positivo fa negativo, quindi la forza è rivolta verso sinistra. Mentre se il corpo si trovasse, ad esempio, qui, X sarebbe negativo, quindi la forza sarebbe positiva, ci sarebbe una forza di respingimento da parte della molla verso destra. Il corpo oscillerà e vogliamo trovare come varia la X al variare del tempo. Quindi questa X che varia in funzione del tempo sarà la nostra funzione incognita e quindi dovremmo risolvere un'equazione differenziale. Dalla dinamica sappiamo che la forza totale che agisce sul punto materiale è uguale alla massa del punto, che nel nostro caso è un chilo, per la sua accelerazione. Ecco, qui ho usato la notazione vettoriale, ma siccome il moto è unidirezionale, cioè è solo lungo l'asse X, avremo, passando alle componenti lungo l'asse X, che l'unica forza, appunto, lungo l'asse X è meno KX, è la forza elastica, perché le altre forze che agiscono sul punto materiale, sul corpo, sono la forza peso, che è perpendicolare all'asse X, e poi c'è la reazione vincolare dovuta al punto, al ripiano, al vincolo, su cui oscilla il corpo, che è perpendicolare anch'essa al piano, ed è ovviamente contraria alla forza peso, uguale e contraria alla forza peso, quindi la forza peso va giù e la reazione vincolare va su. Quindi lungo l'asse X, che poi è la direzione del moto, agisce soltanto la forza elastica, meno KX, e questa è appunto la componente della forza elastica. Quindi abbiamo meno KX relativamente alla forza, uguale a M per X derivato due volte, quindi la derivata seconda di X, che è appunto la componente dell'accelerazione lungo l'asse X. Quindi sostituiamo i valori, quindi ad M mettiamo 1, quindi 1 per X seconda, che è uguale a meno 4, il valore di K è 4 N su metro, per X. Quindi abbiamo questa equazione differenziale del secondo ordine, perché l'ordine massimo della derivata di X è 2, e quindi passiamo alla risoluzione di questo tipo di equazione. Dallo studio della teoria sappiamo che ci sono equazioni di secondo grado di questo tipo, quindi Y seconda più A, che è una costante, per Y primo, più B per Y uguale a 0. Quindi questa è un'equazione differenziale del secondo ordine, lineare, omogenea. Nel nostro caso A è uguale a 0 perché manca il termine con la derivata prima di X. Diciamo, sui libri di teoria di solito si trova la Y come funzione incognita, la nostra equazione invece particolare ha come funzione incognita la X, che è la posizione del corpo. Quindi abbiamo la derivata seconda di X più 0 volte la derivata prima di X più 4 volte X uguale a 0. Ecco, associamo dunque l'equazione caratteristica alla equazione differenziale di prima, abbiamo Z quadro più 4 uguale a 0. E da qui troviamo le due radici, che sono radici complesse e coniugate, quindi 2I e meno 2I. E conoscendo nei dettagli della risoluzione, perché dovrebbe essere abbastanza semplice, abbiamo un delta negativo e quindi le radici sono queste, poiché i coefficienti sono reali. Ecco, la teoria ci dice che se il delta è negativo abbiamo le soluzioni dell'equazione caratteristica che sono complesse e coniugate, quindi alfa più o meno I beta e la soluzione generale dell'equazione, questa qui, in cui la Y è funzione di X, che è la funzione incognita, è di questo tipo la soluzione generale. Quindi E elevato ad alfa per X, quindi alfa è la parte reale della soluzione dell'equazione caratteristica, che moltiplica C1 coseno di beta per X più C2 seno di beta per X, dove C1 e C2 sono costanti da determinare se abbiamo due condizioni al contorno. E beta, che compare all'interno dell'argomento della funzione goniometrica, è la parte immaginaria della soluzione dell'equazione caratteristica. Ecco, abbiamo risolto l'equazione caratteristica del problema e la parte reale è alfa uguale a 0 e la parte immaginaria è beta uguale a 2. Quindi la soluzione generale della nostra equazione, che deriva appunto dal problema fisico, ecco qui X è funzione del tempo, questa soluzione generale è scrivibile in questo modo, quindi E elevato ad alfa, ma alfa è 0 per t, che moltiplica C1 per coseno di beta, ma beta è 2, per t più C2 seno di 2t. Questo fattore fa 1 e quindi riscriviamo questa soluzione in questo modo. Ecco, abbiamo due costanti da determinare, quindi abbiamo bisogno di due condizioni. Le condizioni iniziali che ci dà il problema, abbiamo che la posizione del punto materiale al tempo t uguale a 0 è 0 e la velocità iniziale è 2. Quindi calcoliamo la velocità derivando la x, quindi la derivata della x di t è questa espressione, poi calcoliamo la x per t uguale a 0, quindi basta sostituire 0 con t e lo poniamo uguale a 0 perché appunto la posizione all'istante iniziale è 0. La velocità che è x primo al tempo t uguale a 0 è uguale a 2, ma l'espressione della velocità per t uguale a 0 è questa. Quindi di nuovo mettiamo al posto di t, mettiamo lo 0. Quindi abbiamo la prima equazione che ci dà che C1 è uguale a 0 e la seconda equazione che ci dà che C2 è uguale a 1, quindi è abbastanza semplice. Quindi basta adesso andare a sostituire i valori di C1 e di C2 e troveremo l'equazione particolare che risolve il nostro problema fisico, tra le tante che sono, diciamo, inglobate nell'espressione con C1 e C2. Ecco, la legge oraria è questa, seno di 2t, quindi è un moto oscillatorio. E la domanda che vi faccio è come sarebbe venuta la legge oraria se ci fosse stato dell'attrito? Questo è un moto oscillatorio senza smorzamenti, perché appunto l'attrito è inesistente. Questa è una situazione ovviamente idealizzata, nella realtà il moto è oscillatorio smorzato, sarebbe oscillatorio smorzato perché appunto è presente, anche se in minima parte, una forza di attrito. Bene ragazzi, adesso non mi rimane che invitarvi a visitare anche il nostro blog di matematica gratuita, ilmatematto.blogspot.it, com. Vi invito a iscrivervi a questo nostro canale YouTube, a mettere mi piace su questo video o su altri video che sono di vostro interesse e a condividerli con il maggior numero possibile di persone che conoscete. Ecco, io vi saluto e vi auguro buono studio. Ciao e a presto!